Ecco qui Zoe, che non vuole venire, fa tutta la scena, che se ne vuole andare, poi io la prendo, Nadia va, Nadia va, lei aspetta, come Nadia va via, guardate, vi prego, guardate cosa fa, si apre la vasca E cosa fa lei? Da sola, da sola, ma ce ne rendiamo conto che fa finta che non vuole entrare e poi entra da sola, che non vede nulla di fare il bagno, ma la mamma non glielo fa credere, furba, sciampetto per Zoe Dopo il balsamo un bel risciacquo, rigorosamente seduti per non stancarci troppo di questa vita da cani, vero? Un po' viziata, vero? Un po' tanto Zoe è finita la toilettatura, aspetta la mamma, bravissima È arrivata la mamma, nessun abbandono in corso, è vero? È vero? Cosa vuole adesso? Cosa vuole adesso? Mica se ne vuole andare, vero? Mica se ne vuole andare, cosa vuole? Cosa vuole questa ragazza? Guarda anche i biscotti, come se io non sapessi dove sono Cosa vuole? Un biscotto, ancora uno che sei proprio brava Allora, questo è l'ultimo Voilà, bravissima Zoe, questa è l'attrice di nome Zoe Dall'inizio alla fine della toilettatura Eh? Vero Nadia che qui abbiamo un'attrice? Eh? Anche la mamma lo dice Sei stata beccata in flagrante, qua c'è il video Ciao ciao a tutti